Da oltre vent'anni Di Poce sta tenacemente proponendo le ragioni della letteratura contro ogni possibile degrado di umanità. Lo fa con coraggio e coerenza, alternando l'affilato epigramma e il luminoso aforisma. Di Poce è un esploratore di generi e si muove con soltezza dall'arte alla letteratura, dalla poesia al saggio all'aforisma, anche sul piano lessicale e gli cerca di aprire nuovi orizzonti affidandosi alle risorse della creatività, e alle forme in evoluzione dei poesismi, coniugando etica ed estetica, come indicano gli appunti per una nuova estetica della visione e una nuova etica fotografica, 2012, dalla nota del professor Gino Ruozzi.